Bentornati su MyFootballJersey. Euro 2024 si avvicina e quindi vediamo le maglie delle squadre che faranno parte. Questa è la prima maglia dell'Inghilterra in edizione Player. Vi ricordo che sono ancora anticipazioni perché non è ancora stata rilasciata ufficialmente. Grazie a tutti. La maglia è molto bella da tradizione dell'Inghilterra, ovviamente bianca. In particolare il colletto di Nike che sta proponendo per questa 2024-2025. L'ho visto già nella maglia del Brasile e trovato qui in alto alla recensione. Ottimo il tessuto della versione Player come al solito. Il costo lo vedete qui sopra per questa maglia, devo dire veramente molto basso, ma decidete voi cosa fare. Se volete saperne di più trovate tutti i riferimenti della maglia e del sito qua sotto nella descrizione del video. Andate a vedere perché insieme a questa maglia ne troverete tante altre pronte a sorprendervi. Ora vi lascio la parte finale. Prima però ricordatevi di iscrivervi al canale. A voi non costa nulla, ma per noi fa una differenza enorme. Per oggi è tutto. Alla prossima! Alla prossima!